Ragazzi prima di cominciare vi ricordo 4 mila mi piace e domani avrete subito un nuovissimo episodio Mi raccomando supportate al massimo la serie, seguitemi su Instagram e su Twitch, trovate i link in descrizione Salve a tutti ragazzi, sono sempre Momenzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo tornati qui con il secondo episodio della carriera allenatore con la nostra Inter Vi ringrazio per il supporto che mi avete dato nel primo episodio raga I link utili li trovate in descrizione, mi raccomando ragazzi venite a mi seguire sui miei social Grazie per tutti i consigli che mi avete dato, me ne avete dati parecchi veramente Innanzitutto non so perché mi avete detto che Icardi ha la clausola ragazzi ma ci avevamo già guardato Icardi non ha la clausola recessoria e quindi per lui possiamo stare tranquilli Ma vi faccio vedere anche a voi che non ha la clausola recessoria Eccolo qua, come potete vedere non ce l'ha ragazzi quindi possiamo stare tranquilli Per quanto riguarda il calcio mercato invece, ora non so perché siamo sistemati così qui Dicevo per quanto riguarda il calcio mercato raga mi avete consigliato di riscattare Baldè Riscattare Versalico e di tenere comunque Politano per il prestito fino alla fine del prestito Mi avete consigliato di tenere Baldè quindi dovrei togliere il prestito per poi ricomprarlo Ok? È un po' complicata la faccenda raga perché sia Keita che Versalico sono molto costosi Quindi vedremo un attimo come muoverci però io so qual è la vostra preferenza ovvero Keita Baldè Per quanto riguarda ragazzi i due moduli Quello che avevo fatto vedere nello scorso episodio è questo Ovvero questo e quest'altro ragazzi Ho creato appunto due moduli e per ogni modulo ho inserito le tattiche e la modifica dei piani di gioco Per esempio nell'ultradifensivo 4-2-3-1 ho fatto così È diventato un 4-3-2-1 diciamo così ecco Con il Cdc che diventa Vessino in questo caso Ci abbassiamo tutti chiaramente in ultradifensivo c'è bisogno di difendersi parecchio Per quanto riguarda invece il modulo difensivo è più o meno lo stesso Si abbassano leggermente gli esterni Per quanto riguarda quello offensivo invece si alzano gli esterni Perisic e Baldè E poi ragazzi c'è il modulo ultraoffensivo dove diventa praticamente un 4-2-4 Diciamo con Nainggolan che agisce vicinissimo ai cardi Le due ali che diventano proprio ali E Brozovic che va a fare più che altro Più che il Cdc va proprio a fare un C o C Ecco però lì lo segna il Cdc lo stesso E poi Vessino E si alzano anche un po' i terzini Questa è l'ultraoffensiva Potremmo provare così Forse siamo un po' troppo sbilanciati Ma fa lo stesso Per quanto riguarda il secondo modulo Oggi avevo promesso che ve l'avrei fatto vedere E andremo a provare questo modulo nella seconda amichevole Siamo con il 3-4-2-1 Ok? Che sì 3-4-2-1 Che in ultradifensivo diventa 5-1-2-2 Ovvero Diciamo così gli esterni si abbassano tanto Quindi in questo caso Versalico e Perisic Poi abbiamo Brozovic e Vessino davanti alla difesa Nainggolan davanti praticamente due centrocampisti Martinez e Icardi un po' più isolati per cercare la ripartenza Nel caso si metta male Per quanto riguarda il difensivo rimane 3-1-4-2 Diciamo che Vessino viene a fare il centrocampista difensivo In angolanza bassa a mezzala Direi che così ci può stare come modulo difensivo E poi abbiamo quello d'attacco dove si alzano un po' gli esterni E ultraoffensivo Praticamente raga è un 3-1-3-3 Mi verrebbe un po' da dire così ecco Faremo delle prove raga C'è da fare delle prove Mi avete consigliato di prendere anche un altro portiere Perché Andanovic si sta invecchiando Allora ragazzi Ha già 33 anni e quindi sta già calando Per quanto riguarda i portieri raga Io ho inserito Lunin e Pickford Ok? Questi due portieri sono interessantissimi Lunin dovrebbe avere un 76 di overall Però ha 19 anni E sarebbe perfetto perché questo portiere L'Inter lo voleva prendere realmente Il vero problema ragazzi è che Lui ha la clausola rescissoria E il Real Madrid non lo vuole vendere Quindi o pago 23 milioni di clausola rescissoria Per un portiere molto giovane ma che cresce a bomba Oppure vado su Pickford Vado su Pickford Il problema è che con Pickford Pickford diventerebbe il titolare ragazzi Diventerebbe assolutamente il titolare Vi dico la mia preferirei pagare 23 milioni di clausola rescissoria Per Lunin e avere un portiere che il prossimo anno Secondo me è anche potrebbe anche essere più forte di Pickford Attendiamo un secondo per quanto riguarda il portiere Raga devo provarci È d'obbligo È d'obbligo provare questo acquisto Ce la farò? Non ce la farò? Fa lo stesso Devo assolutamente provarlo Ma soprattutto sarà un colpo che rincontreremo Nel corso di questo calcio mercato Ecco perché appunto ci vorrei provare Ci vorrei provare veramente Anche se ha 32 anni raga Sarebbe veramente un sogno vedere Modric con questa maglia Proviamo a fare uno scambio giocatori Soprattutto raga perché io ho João Mario Che vale 22 milioni e 500 Che potrebbe spererei non sono interessati Ok sì ma vorrebbero 91 milioni raga Io ricordo che ho 71 milioni Di budget trasferimenti Quindi dobbiamo assolutamente abbassarci tanto Per me come base di trattativa Se non si arrabbiano 50 milioni più João Mario potrebbe essere interessante Vediamo un po' come reagiscono Si sono già abbassati Voglio una clausola della rivendita raga Ok Si stanno abbassando però Modifichiamo una clausola della rivendita Io arriverai a 56 milioni raga Potrei forse prenderlo Vediamo un po' Hanno bisogno di tempo per pensarci raga 56 milioni più João Mario Con clausola della rivendita Potrebbe essere interessante Vi faccio vedere anche tutti gli altri nomi Che ho inserito raga nella lista Abbiamo a parte Luline Pickford Abbiamo Saul Niguez Quanto mi piacerebbe prendere Saul Niguez ragazzi Voi non ne avete assolutamente idea Per quanto riguarda all'esterno sinistro Abbiamo Henry Onyokuru Che è una bestia raga Mi piacerebbe un sacco provarlo È veramente una bomba questo giocatore Abbiamo Ascassibar Per il centrocampo difensivo Una clausola di 22 milioni Neanche troppo Forsberg e Havertz Come Trequartisti Nel caso io non riuscissi a prendere Versalico nuovamente Ci potrebbe essere Cadera Vabbè ecco Closterman Come esterno destro Interessantissimo C'è Lazaro A sinistra abbiamo Saracchi A centrocampo E anche trequartista Io ho inserito anche Zaccaria Zayec E Arthur Questi ragazzi Qui tra l'altro Se non sbaglio Hanno anche la clausola Rescissoria Tutti quanti Esatto Sono interessanti Ci sono molto interessanti Anche vabbè Chiaramente Dembele Fornals Isco Rafinha E Rafinha Io vorrei prendere Questo Rafinha ragazzi È una clausola Rescissoria Di 38 milioni 500 C'è anche Richarlison Che però Si è appena trasferito Ho inserito anche Vinicius Junior Ragazzi ma guardate La clausola Rescissoria Di questo Giovane Sono 47 milioni Io ragazzi Avanzerei Sperando mi arrivi Qualche offerta Per poi andare A fare Le nostre trattative È inaccettabile L'offerta Per Modric Vado a trattare Ancora Vado a trattare Ancora Joe Mario Più Ehi raga Potrei spingermi Un pochettino Più in alto Potrei spingermi Un pochettino Più in alto Ma non troppo Joe Mario Più 58 milioni Dai vediamo E poi tra l'altro Non si abbassano Neanche raga Non si abbassano Neanche Quindi niente Per il momento Modric È inarrivabile Per il momento Modric è inarrivabile Tra l'altro Avrebbe uno stipendio Sicuramente altissimo Raga Quindi È molto improbabile Prendere un giocatore Del genere Speravo Magari Mi chiedessero Qualcosina di me Ma non è detta L'ultima parola Vedremo un attimo Come si sviluppa Il nostro calciomercato Anche magari Con Le cessioni Per esempio Padelli 3 milioni e 100 Potremmo chiederne 3 milioni e 4 A 32 anni Proviamo a trattare La cessione di Padelli Raga Allora Facciamo una offerta Chiediamone 3 e 8 Perché purtroppo Alla fine Non mi entrano mai Tutti quei soldi Vediamo un po' Cosa dicono Ottimo Perfetto Padelli L'abbiamo ceduto Io vi dico la verità Ragazzi Sono Sono puntato Per prendere Per prendere L'Unin Offerta per il trasferimento Uh Attenzione raga Qui arrivano un po' Di offerte Interessanti Candreva La Roma In New Curie Andiamo da New Curie Per favore Cerchiamo di Lazzare un pochettino Io Alzo sempre Ragazzi L'offerta Alzo Sempre Pover Poveracci 1 milione e 550 Con clausola della rivendita Dai Non ci credo Raga L'ha rifiutata Sì Sono arrivati senza soldi La Roma Fa un'offerta Di 16 milioni e 9 Per Antonio Candreva Ora Dare Candreva A una diretta Concorrente Secondo me Non sarebbe Un gran colpo A meno che Non mi diano Sopra i 20 milioni Raga A quel punto Mi dispiace Ma Candreva Possiamo Tranquillamente Salutarlo Candreva L'avrei tenuto Volentieri Per Una sorta Di turnover Ecco Quindi Facciamo una offerta Per il cartellino Io Onestamente Andrei sui 25 Forse Forse un po' Troppo 25 e 2 Vediamo un po' Si sono alzati Si sono alzati Ma non è ancora Quanto potremmo chiedere Quindi magari Abbassiamoci Insieme a loro Abbassiamoci Andiamogli un po' Incontro Diciamo Si stanno alzando Parecchio Raga Si stanno alzando Veramente Ma veramente Tanto Sarebbero Buonissimi Sti soldi Soprattutto perché Riuscirei ad andare A riscattare Keita Con questi soldi Ecco 22 e 5 Dai 22 e 5 Ed è vostro Più clausola della rivendita Addirittura Peccato raga Peccato 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 Fa lo stesso Dai Fa lo stesso Ok raga Direi che potremmo andare A giocare questa partita Contro l'Everton Difficoltà ultimate Che ricordo La difficoltà Più complicata E la più alta Ragazzi Con il livello di difficoltà Più alto E andrei a giocare Si con la seconda maglia Ma anche Con questo modulo Con questo modulo E magari potremmo provare Qualche giocatore diverso Per esempio Caramò mi chiede di giocare Però adesso magari Non è il caso Magari Caramò Al posto di Nainggolan Ok Metterei anche Gagliardino Al posto di Vessino Emers al posto di Brozovic Facciamo un po' di Di turnover Dai Di Marco Lo teniamo Proverei anche Politano a questo punto Raga Gli darei un'occasione Comunque E direi che ci andiamo A giocare la partita Con questo modulo Signori Andiamo a provarlo Sempre sul pezzo E forza Inter Anzi aspettate un attimo Metto 4 minuti Però Metto 4 minuti Così facciamo un po' prima Gagliardini Per Mauro Riccardi Caramò La larga per Lautaro Martínez Dall'altro lato Per Perisic Calamete Ma dove c'è Mauro Riccardi E lo sblocchiamo subito Signori Con un'incornata Spettacolare Di Mauro Riccardi Perisic Tu i Cardi Signori Si incontrano Anche sul gioco Guardate qui Che bella azione Lautaro La larga per Ivano Bel cross Messo in mezzo Pulito pulito Morbido morbido Pane per i denti Di Maurito Riccardi 1-0 Inter Attenzione a questo buco Difensivo Non ci può essere Un buco del genere Con tre difensori Appostati In posizione Gran chiusura Di Skriniar Qui sul pezzaccio Veramente Lancio per Perisic Attenzione a Perisic Gran pala recuperata Lautaro Martínez Davanti a Pickford 2-0 Inter Lautaro Martínez Non sbaglia E il Toro Primo gol Con la maglia dell'Inter Proprio lui Orribile Orribile Qui bravissimo Gran lavoro di Perisic Gran pala per Lautaro Gran gol di Lautaro Raga Veramente ma veramente Gran gol Col mancino incrociare Nulla da fare proprio per Pickford Occhio 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 no Che gol di Andre Gomez Raga L'ottandaduesimo Così dal nulla Dal nulla Veramente Guardate qui che gol Che mi ha fatto Assurdo Assurdo Gran gol di Andre Gomez Adesso però Non voglio pensare minimamente A un altro pareggio In Extremis Finisce qui signori Vinciamo 2-1 Battiamo Leverton Dominiamo tutto il match Questo modulo Non mi dispiace per niente Credo che lo proverò Anche nella partita dopo È veramente Ma veramente Un bel modulo Colidio sale Subito al 64 Molto bene Dopo due allenamenti Ok raga Offerta Per Antonio Candreva Dall'Atletico Bilbao Dobbiamo assolutamente Riuscire a Cederlo Andiamo a trattare Possiamo chiedere Fino a 21-22 milioni Io vorrei provare A A prendermeli Questi soldi 23-500 Ok Non voglio Arrivare al muro Contro muro Ci tengo ad avere Candreva nella nostra squadra Ma non posso Offrire più di 21-200 Allora Facciamo una bella Via di mezzo 22-200 Fratello Perfetto signori Mi spiace per Antonio Perché nella realtà Lo stimo tanto Ma in carriera allenatore Capitemi che Uno di 31 anni Con 81 di overall Potrebbe fare fatica Attenzione perché Gladbach invece Ci offre una bella Cifra per Per D'Ambroso È più di quello Che potremmo chiedere Quindi Andrei a trattare Onestamente Questi sono soldi Super utili Dovessero entrare Raga Io ne chiederei Quasi 10 È la nostra Ultima offerta 7 milioni E 2 Proviamo 8 e 2 Raga dai Cerchiamo di fare Sto miracolo 7 milioni E 9 Raga 7 milioni E 9 E io vi dico La verità Accetto Io vi dico La verità Accetto A questo punto Ragazzi Proviamola Termiamo il prezzo Diversalico Per 800 Minchia Quasi un milione Raga Quasi un milione E cerchiamo di Acquistarlo Ufficialmente Andiamo a cercarlo 26 anni Per lui 18 milioni È la richiesta Dell'Atletico Madrid Proviamo a fare Uno scambio giocatori Vediamo un po' Potremmo mettergli Dalbert D'Ambrosio Se li mettiamo D'Ambrosio Scusatemi Però Io serve un difensore centrale Un attaccante Un centrocampista Proviamo ad offrirgli Un altro ruolo Centrocampista Chi abbiamo? Abbiamo Abbiamo Borca Valero Ragazzi Abbiamo Borca Valero Borca Valero Più 20 milioni È tanto Troppo Decisamente Raga Borca Valero Più 20 milioni È tanto Però Borca Valero Più 10 milioni Onestamente C'è sto pure Ok Stanno calando Stanno calando Raga Noi gli andiamo incontro Di poco poco Sarebbe importante Prendere Versalico A pochissimo A pochissimo Veramente Possiamo salire Un altro po' 14 e 5 Dai Ok Grazie Simeone Versalico diventerebbe Tutti gli effetti Un acquisto Uffiziale Ok Prende 57 di stipendio Quindi gli diamo 57 di stipendio 450 mila Di bonus Di ingaggio Ok Signori Perfetto Questa cosa è andata E' andata a buon fine E sono molto contento Di ciò Versalico è il nostro Primo acquisto E siamo coperti Per fortuna A destra Ok raga Direi che Ci possiamo Perfetto Direi che ci possiamo Concentrare Su questa partita Contro il Benfica E poi Concludiamo L'episodio Perché oggi Qualche trattativa L'abbiamo fatta Ok ragazzi Andiamo a giocare Su questa partita Contro Il Benfica Con quella che dovrebbe Essere la nostra Formazione Titolare Ok Bene Se noi dovessimo Giocare così Questi sarebbero Gli undici Titolari Mi verrebbe da pensare Quindi andiamo in campo Sempre sul pezzo E forza Inter Attenzione Qui Oh raga Comunque questi Come mi tirano in porta Me la buttano Me la buttano dentro Non so veramente Cosa cavolo dirvi Io non ho ancora visto Andanovic fare una parata Perché questi Come tira La mettono nell'angolino Boh Non so cosa Non so cosa dirvi Non so cosa dirvi Fammi rivedere un attimo Oh mio dio raga Ma Andanovic Non si è tuffato Non si è tuffato bene raga Attenzione Qui al Valencia Raga 2 a 0 Attenzione Qui al Benfica Raga 2 a 0 Non so perché Il Valencia Onestamente Però veramente Ma veramente Gran gol Gran gol È ultimate Tanto difficile Però Secondo me È giusto farla così Se vedo Che non inizierò Più a divertirmi Perché le perdo tutte Raga Forse è il caso Di cambiare Però Secondo me Come allenamento Queste prime partite Ci stanno Ci stanno Per abituarsi Riccardi Bella la palla Per Keita Appena entrato Keita Davanti al portiere Keita La riapre All'84 La riapre All'84 Keita Baldediao Primo pallone Toccato Bella l'azione Qua dell'Inter Che in questo caso È riuscito a trovare Un ottimo spazio Attenzione a Angolano Fa andare Keita L'ultimo pallone Probabilmente giocabile Della partita Keita La mette in mezzo Dall'altro lato Dove C'è Versalico Che l'appoggia Non ci arriva nessun altro E finisce qui signori Perdiamo 2-1 Col Benfica E veniamo eliminati Se non sbaglio Dal girone Sì Direi di sì È stata una partita complicata Ma è venuta anche fame Vince il Valencia 3-1 E quindi Passa il Valencia E il Benfica Direi Giusto? Non mi ricordo No Passiamo noi Siamo contro l'Arsenal Non si sa perché Non mi ricordavo Quanto ero in classifica Ma fa lo stesso Avanziamo qualche giorno Raga E ci entrano 2 milioni Nel frattempo Sono ottimi Abbiamo venduto Padelli Ok raga Io vorrei Visto che abbiamo venduto Anche D'Ambrosio Ci entrano 6 milioni Andare a vedere L'offerta per Ranocchia Ma soprattutto Vorrei vedere Il resoconto su Lunin Ok 23 milioni E 600 Di Clausola Rescissoria Raga Tratto Pickford O pago La clausola Rescissoria Di Lunin Votate Nel sondaggio Mi raccomando Raga Ci tengo Tanto Votate Il sondaggio Qua sotto Io sarei Per prendere Lunin Andiamo a vedere Quest'offerta Per Ranocchia Potremmo chiedere Fino a 5 milioni Andiamo a trattare Raga Chiaramente Poi concludiamo Così l'episodio Ok valore attuale 5 milioni e 5 Quindi io perché Non ne posso chiedere 6 e 2 Raga Ma pure 6 e 5 Per Ranocchione Se no me lo tengo Perfetto Raga È andata la grande È andata benissimo Bene signori Io concludo qui L'episodio Per il momento Abbiamo preso Solo Versalico Ma Ragazzi Abbiamo tempo Abbiamo tempo Ma soprattutto Abbiamo anche soldi Perché adesso ci entrano Parecchi milioni Mi raccomando Votate il sondaggio In descrizione Ci tengo tantissimo Superiamo i 4.000 Mi piace Per un prossimo episodio Noi ci vediamo In un prossimo video Un saluto alla mezza Dalla prossima Ciao a tutti ragazzi